Ben trovati con le notizie del Consiglio regionale, riduzione del rischio degli incendi boschivi e ripristino delle macchie danneggiate. Sono alcune delle misure contenute in una risoluzione approvata dal Consiglio regionale che punta a prevenire e scungiurare l'emergenza incendi in Lombardia. Vediamo. Un'anime via libera in Consiglio è la risoluzione che impegna la Giunta ad attivare nuovi interventi per prevenire e scongiurare l'emergenza degli incendi boschivi. A gennaio nelle province lombarde si sono sviluppati 49 incendi che hanno bruciato 1.068 ettari di bosco. In Lombardia la superficie boschiva copre poco più di 600.000 ettari, il 26% del territorio regionale e rappresenta il 50% della superficie totale nelle aree montane. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Commissione Montagna, Gigliola Spezzini. Una montagna curata, una montagna che produce, perciò una gestione attiva del bosco fa sì che anche gli incendi si possano evitare o perlomeno contenere e prevenire e questo è un aspetto fondamentale. Oltre a quello comunicativo dove ci devono essere dei comportamenti corretti, competenti, non solo da parte di chi vive la montagna, ma da parte anche di chi la montagna la conosce per un discorso turistico, per un discorso culturale. L'autonomia che rivendica la Lombardia non sarà un nuovo centralismo regionale in sostituzione di quello statale, ma coinvolgerà tutto il sistema regionale degli enti locali a cui la Regione delegherà ampie funzioni amministrative e relative risorse. Lo ha affermato l'assessore regionale, l'autonomia Stefano Bruno Galli, a margine di un'audizione in commissione nel corso dalla quale si è fatto il punto sulla trattativa con lo Stato, il cui esito finale è atteso per il prossimo 15 febbraio. Galli ha sottolineato che dopo l'intesa, prima della sua approvazione, ci sarà un confronto tra il Premier e i governatori regionali interessati. Nasce a Milano il Tempio del Design, il più grande d'Europa, che racconterà tutta la storia dei creativi dal 1954 ad oggi. Il museo sarà inaugurato nel 2020 e sorgerà nell'area industriale fra via Cereso e via Bramante, su una superficie di 5.135 metri quadrati, di cui 3.000 riservati alle aree dispositive, oltre 2.000 i pezzi della collezione. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.